Shalom, 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 shalom eccoci qui per un'altra lezione e questa lezione sarà una sorta di seguito a quello che ho fatto ieri riguardo essere onesti con noi stessi ok? e questa puntata sarà più su sì, su cosa scegliere nella vita le nostre carriere, i nostri sogni o quello che hai padre per noi e prima di iniziare voglio lodare, ringraziare e dare tutti l'odio dovuto al padre Yahweh nel nome di suo figlio Yahweh Shai, nostro re, rendentore e salvatore mi do più onori agli apostoli e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità e come al solito pace a un terzo della casa di Israele coloro che cercano con sincerità la verità e ai mille ai 144.000 eletti ok? e anche alle poche sorelle che con sincerità cercano la verità miei saluti e ora inizio questa lezione leggendo da qui libro di Matteo dal versetto 22 andiamo a vedere la versione più semplice e prendiamo questa nuova riveduta 2006 che dice la lampada la lampada del corpo è l'occhio se dunque il tuo occhio è limpido tutto il tuo corpo sarà illuminato ma se il tuo occhio è malvagio tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre se dunque la luce che è in te è tenebre quanto grandi saranno le tenebre nessuno può servire due padroni perché odierà l'uno e amerà l'altro o avrà riguardo per l'uno e disprezzo e disprezzo per l'altro voi non potete servire Dio Yahweh e Mamone ok perciò qui dice la lampada del nostro corpo è l'occhio il nostro occhio e e il canale attraverso e il canale attraverso riceviamo informazioni e lo porta nel nostro cuore nel nostro cervello l'occhio è molto importante quando guardiamo qualcosa o solo guardando facciamo già un pensiero su queste cose qui ok perciò dall'occhio entrano l'informazione molto profondo questi versetti perdonatemi è molto profondo questo versetto qui perciò quello che in poche parole quello che sta dicendo se i nostri occhi sono posto al padre Yahweh e nel suo figlio Yahweh Shai nel regno ad avvenire chi ha preparato per noi ok allora il nostro corpo sarà illuminato e ricordatevi che la luce del nostro corpo quello che ci rende che ci fa illuminare è la conoscenza ed è questa conoscenza qui poi credo di fare un'altra lezione su questo che la luce è la conoscenza l'ho detto penso anche in un altro video che dovrei fare una lezione su questa ma Yahweh Hashem Yahweh Shai volendo lo farò quando sarà il tempo più giusto per farlo comunque la luce quando il versetto dice fai splendere la tua luce che mi sa si trova nel libro di Matteo scusatemi anzi si trova si trova in tantissimi ma leggiamo velocemente dal libro di Efessini capitolo 5 versetto 8 perché in passato eravate tenebre ma ora siete luce nel Signore comportatevi come figli di luce poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è buontà giustizia e verità avete visto questa verità che abbiamo è la luce questa e questa verità consiste nella giustizia e bontà ok perciò quando abbiamo la luce quando abbiamo questa conoscenza risplende la luce no eravamo in capitolo 6 versetto capitolo 6 versetto 22 eccoci qui perciò quando abbiamo questa conoscenza se noi impostiamo il nostro cuore su questa conoscenza verremo illuminati ok saremo illuminati e credo che è questo che vede il padre il padre riesce subito a distinguere i suoi ok perché li vede illuminati noi non abbiamo quegli occhi là almeno per ora ma quando Yahweh ritornerà e ci darà le corone ci darà corpi nuovi questo dovrebbe essere un'altra lezione corpi nuovi e allora potremo illuminare come le stelle ok ed è importante qui perché tanti di noi andiamo dietro delle carriere vogliamo vogliamo arrivare a certe cose nella società vogliamo arrivare a un certo livello lavoro questo l'altro ora non dico di non lavorare dobbiamo lavorare per mantenerci infatti le scritture ci fanno capire che noi dobbiamo siamo in schiavitù adesso dobbiamo lavorare per per il bisogno nostro che è il cibo ok avere dove dormire ok e non dobbiamo comunque sperare in tante cose tipo fare carriere creare la nostra casa grande in questo regno se il padre ti rende ti rende ricco benvenga ok ma infatti la scrittura dice sarà più facile che il cammello vada attraverso l'occhio di un lago che è un uomo ricco ok e anzi andiamo velocemente a leggere dal libro di proverbi proverbi 23 e qui 4 non si affannare per diventare ricco smetti di applicarvi la tua intelligenza ok allora andiamo a vedere un'altra versione vediamo questa che dice la stessa cosa vediamo scusatemi vediamo questa che dice non affaticare per arricchire rimanti della tua prudenza prudenza ok non dobbiamo la parola che cerco qui la parola che cerco qui sarebbe non lavorare per arricchirti vediamo se lo troviamo su un altro ok qui abbiamo la stessa scusatemi un attimo va bene alla fine comunque il senso lo abbiamo capito non t'affanare per diventare ricco smetti di aprirvi la tua intelligenza noi non non è chiesto non dobbiamo lavorare fare tutto questo per diventare ricchi per avere per trovare il nostro pezzo di questo regno ok ok dobbiamo lavorare per il bisogno di vivere insomma e non cercare di arricchirci ok perché se questo se il regno del padre è quello che vogliamo proprio allora non vorremmo proprio nulla non vorremmo crearci il nostro spazio piccolo comodo in questo regno qui dobbiamo pregare affinché il suo regno avvenga ok ed questa è la giusta cosa infatti se torniamo a leggere sul libro di Matteo Matteo 6 e 22 no Dego nessuno può servire a due padroni perché odierà l'uno ed amerà l'altro ossia terrà l'uno e spezzerà l'altro voi non potete servire a Yahweh padre ed a Mamona ok Mamona qui se andate a vedere la radice della parola vuol dire le ricchezze i soldi ok non possiamo servire il padre Yahweh e la Mamona ok perciò dobbiamo dobbiamo farci la domanda cosa vogliamo proprio il suo regno o questo regno qui ok perché lui ci ha promesso un regno diverso da questo questo regno è corrotto è guidato dai figli dei malvagi ok sono le famiglie bancarie sì quelli che comandano ho già fatto un video su questo e questo regno è corrotto abbiamo bisogno di un nuovo regno ok il regno dove dove sarà tutto giusto sarà tutto perfetto cambierà tutto ok i figli di Israele non dovranno più soffrire saremo su ora siamo sotto la società e saremo su poi i figli di Israele non vorrei tenere troppo lungo questa lezione vi leggo altri due libri e poi chiudo vi leggo dal libro di Corinzi primo Corinzi capitolo 2 e versetto 9 ma come scritto le cose che l'occhio ma come è scritto no anzi andiamo a vedere una versione più semplice ok che dice ma come è scritto le cose che occhio non vide e che orecchio non udi e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che il padre Jehovah ha preparato per coloro che lo amano cari fratelli se credete di aver visto tutto in questa vita credetemi non avete visto ancora un bel tubo perché quello che il padre ha preparato per coloro che lo amano coloro che lo cercano con sincerità coloro che conoscono questa verità è assurda nemmeno le orecchie hanno sentito nemmeno gli occhi hanno visto sono cose fuori dalla nostra immaginazione e se leggete anche dal libro di di dal libro di Apocalisse mi sa che parlava che le strade le via del paradiso sono fatte di oro di pietre preziose e quel paradiso che dice sulla terra qui perché la terra sarà per sempre è che cambierà il governo cambierà ok quelli che sono i nostri oppressori ora diventeranno diventeranno i nostri schiavi e noi che siamo oppressati saremo il loro re ok e questo regno sarà guidato dal figlio del padre Yahweh ok perciò decidetevi ora cosa volete volete volere un vostro pezzo di questo regno vi ho detto quello che ho rifiutato ok per questa verità e ringrazio il padre per avermi dato la forza per rifiutare ciò che ho rifiutato per questa verità ok per coloro che non sanno di cosa sto parlando basta guardare l'ultimo video che ho fatto che ho parlato un po' della mia testimonianza e chiudo questa lezione leggendo il libro di Colossi 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 ok capitolo 3 e da versetto 2 aspirate alle cose di lasso non alle cose che sono sulla terra poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con il Messia nel padre Yahweh ok poi leggo qui in versetto 2 aspirate alle cose di lasso non alle cose non a quelle che sono sulla terra siamo stati comandati sì più o meno un comandamento questo se cerchi veramente il padre il tuo cuore non saranno sulle ricchezze di questa terra andiamo a vedere un'altra versione come traduce questo dice abbiate l'animo alle cose di sopra non alle cose non a quelle che sono sulla terra infatti sì io questo messaggio è per coloro che hanno sentito questa verità ma sono legati a delle cose che non vogliono molare magari stanno seguendo una carriera che vogliono arrivare a un gran punto in questa carriera o coloro che ci tengono a delle cose mondane che li lega ancora a questo regno questo messaggio è per voi fatevi una decisione quello che volete ok io come altri fratelli della Great Mewstone lavoriamo per vivere ok lavoriamo per vivere aiutiamo coloro che riusciamo ad aiutare ok ma non non abbiamo non vogliamo crearci i nostri domini su questa terra qui su questo regno qui non lavoriamo per diventare ricchi non abbiamo grandi piani di diventare chissà cosa nel lavoro di diventare qualche boss queste cose qui no non fa parte di noi perché noi speriamo nel regno ad avvenire non in questo regno che è corotto spero che questo messaggio vi possa edificare e aprire i vostri occhi e avvicinarvi sempre di più al Padre Yahweh ok detto questo do a tutti lodi e ringrazio il Padre Yahweh nel nome di suo figlio Yahweh Shai per avermi scelto per conoscere queste cose qui perché mi ha scelto il Padre non ho deciso io nulla ok e i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Gritz Mewstone coloro a chi ha usato per portarmi questa verità questa conoscenza i miei saluti e pace alla casa di Israele alla prossima Shalom Shalom